Benvenuti a meteogiulianci.it. Dopodomani, domenica 15 di dicembre, la perturbazione numero 6 ormai sta per lasciare l'Italia, ma ancora insisterà, soprattutto nel mattino e nel pomeriggio, sull'estrema regione meridionale, portando qualche pioggia sulla Calabria e sulle isole maggiori, mentre sul resto dell'Italia torna un bel tempo, ma attenzione, la serenità del cielo potrà provocare, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, gelate nella notte tra sabato e domenica e nelle prime ore di domenica. Bene, ma vediamo l'immagine del satellite, vedete l'Italia sgombra da nubi, eccetto le regioni meridionali e la perturbazione numero 6, che nel suo movimento verso la Grecia ancora interessa le regioni meridionali, che poi lascerà alla fine della giornata di domenica. Pronta di rincalzo, però lunedì ne sarà un'altra perturbazione atlantica, ma di questo per il momento non ne parliamo. Vediamo allora che tempo farà nella giornata domenica, domenica mattina vedete delle nevicate lungo le Alpi di confine, diciamo un po' di nuvole sulle regioni centrali, ampie schiarite sul nord Italia, attenzione a delle nebbie nella Lombardia, il Veneto, Emilia Romagna, molte nuvole al sud e qualche pioggia sulla Calabria e sulla Sicilia. La situazione è prevista per il pomeriggio, nel pomeriggio ancora qualche nevicata lungo le Alpi di confine, resiste qualche nebbia sulla Lombardia, un po' di nuvole quasi ovunque, ma con ampie schiarite e ancora qualche pioggia sulla Calabria, sulla Sicilia e sull'ovest della Sardegna. Andiamo a dare uno sguardo alle temperature massime previste, ancora in ulteriore aumento, ormai il freddo è solo un ricordo, temperature massime intorno a 6-11 gradi sul nord Italia, 13-17 sulle regioni centrali, 14-19 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.